È un'Italia ovviamente con tanta ambizione e voglia di giocare e fare un bel risultato anche per il nostro pubblico. Quindi saremo molto determinati dall'inizio della partita fino all'ottantesimo. Ovviamente prendere i punti positivi della partita contro l'Irlanda, sicuramente il primo tempo ho avuto molto possesso, che è buono. Ovviamente dobbiamo migliorare un po' l'esecuzione e essere più cinici in attacco. È una cosa che ovviamente abbiamo lavorato questa settimana. Tutti i ragazzi sicuramente vogliono migliorare la prestazione che abbiamo fatto contro l'Irlanda e farne una veramente buona contro la Georgia. Abbiamo una mischia forte anche noi, quindi sarà una bella battaglia. Ovviamente noi tre quarti aiuteremo la nostra mischia, anche nel portare palle eccetera, però abbiamo anche noi una mischia molto forte, sicuramente sarà un vero combattimento davanti, però speriamo ovviamente di essere vincenti noi. Grazie a tutti.